Un film che parte da un'idea di un televisione, va in giro e ritorna a Treviso, è una cosa carina. È una serata molto bella, l'abbiamo voluta festeggiare con la moda, in principio, proprio perché il film parla di moda. E come abbiamo unito il mondo dell'Italia e il mondo della Russia, ora uniamo il mondo del cinema con la moda in una serata introduttiva prima del film, che ci ha veramente reso ancora più a mozzalante la serata di tutti i colori. And put your hands up, and everybody show your light. Everybody stand up tonight, and put your hands up so high. Everybody show you're right, together we can shine. Everybody stand up, and put your hands up. Everybody show your light. Everybody stand up, and put your hands up. È veramente un onore essere qui e presentare il film nella mia città. Io sono nato qui, ho vissuto qui, e chi mi conosce sa che ho iniziato con i fumetti, insomma scrivevo storie già da ragazzino, già dall'elementari, facevo vignette, raccontavo delle storie per immagine, e da lì poi ho fatto un percorso sia nella musica che nella regia. Anche lei ha partecipato al film, è la nostra Marchesa d'Aragona. Buonasera a tutti, è la prima volta che vengo a Treviso e già il mio cuore batte forte. Devo dire che Max è stato fantastico, grande professionista, grande regista, e ho pensato che potremmo girare qui un film a Treviso. La vita è soltanto una questione di stile e tutto gira intorno allo stile, adorati. Perciò con stile gustiamoci quest'opera Dark filmata Max Nardari.